Whisky Festival 2019, siamo con Luigi Barzini, Berry Bros, al Banco di Pallini, di che cosa ci parli? Ciao, dunque oggi abbiamo due prodotti, due gamme di whisky, abbiamo un blended malt, quattro prodotti e due bellissimi blended scotch. I blended malt sono, abbiamo un sherry cask, 100% sherry, buonissimo soprattutto per questa stagione, abbiamo un 100% spayside, molto più fruttato, molto molto buono anche, 100% spayside, e dopo abbiamo due prodotti, un pitted cask e l'altro sherry, che sono dei prodotti che sono tipicamente due prodotti che puoi trovare nel mondo del malt, quando tu bevi il single malt ci sono un sacco di spayside, molti isla e anche molti sherry, dunque questi prodotti sono veramente un'introduzione nel mondo del malto. Adesso abbiamo anche due nuovi prodotti per quest'anno, un 21 anni blended scotch, 100% blended scotch e 25 anni. Per questi due prodotti abbiamo lavorato con un fotografo molto bravo, scozzese, che ci ha fatto delle foto che per lui sono perfettamente linkati al whisky, ok? Queste foto ripresentano il whisky per lui. Non possiamo dire dove ci troviamo, ma la macrozona? La macrozona spayside, dunque molto fruttato, anche cremoso, molto sì, ma molto elegante, un whisky estremamente elegante e soprattutto vecchio, abbiamo un whisky del 25 anni, che infatti prima di essere imbottigliato come questo whisky qua, era un whisky per il Coty Sark blend, che era il nostro blend fatto a casa, che abbiamo già venduto adesso all'Edrington. Ecco qua, due prodotti veramente buoni. In Italia con pallini. In Italia il nostro distributore è pallini, questi prodotti sono disponibili nelle buone eroteche attraverso l'Italia. E niente.